Ciao, ben ritrovato e ben ritrovato a un nuovo appuntamento, quello del giovedì con il Listen and Translate, l'appuntamento nel corso del quale ci dedichiamo alla traduzione del testo di una canzone. Quindi, se anche tu hai un brano che desideri venga tradotto in uno dei prossimi video, lasciamene il titolo nei commenti al di sotto del video. In particolare, il brano che quest'oggi andiamo a tradurre è... Diamonds are a girl's best friend, interpretato da Marilyn Monroe. La canzone è tratta dalla sceneggiatura originale del film del 1953, Gli uomini preferiscono le bionde, interpretato proprio dalla biondissima Marilyn Monroe, nome d'arte di Norma Jean, e dalla Bruna Jane Russell. Il testo del brano viene basato su un famoso detto che recita un diamante e per sempre. Infatti, il concetto che vuole essere espresso attraverso il testo è che, mentre tutto finisce, quindi la fama, la bellezza, la giovinezza, l'amore, sono tutti valori che hanno un termine nel tempo, quello di un diamante invece resta inalterato per sempre. Ma passiamo subito alla traduzione del testo. Quindi partiamo subito dal titolo Diamonds, i diamanti, are a girl's, questa apostrofo S è un genitivo sassone, quindi indica il possesso, sono i migliori amici di una ragazza. E andiamo col testo. I francesi, gli uomini francesi, sono felici, sono contenti di morire per amore. They delight in fighting duels. Loro, il verbo to delight significa deliziare, ma anche dilettarsi in qualcosa. Siccome qui c'è proprio la preposizione in, avrà questo significato. Quindi essi si deliziano nel combattere a duello, nei duelli. Ma io preferisco un uomo che viva e che mi doni, che dia gioielli, jewels, expensive, costosi, di valore. A kiss on the end may be quite continental. Un bacio sulla mano può essere abbastanza continentale, But diamonds are a girl's best friend. Ma i diamanti restano, sono, i migliori amici di una ragazza. I kiss may be grand. Un bacio può essere grandioso, but it won't pay the rental on your humble flat. Questo want è un futuro alla forma negativa, will not in forma contratta, ma esso, il bacio grandioso, non pagherà di rental. Rental può essere tradotto con il noleggio, ma in questo caso, facendo riferimento al flat, l'appartamento, intende il canone d'affitto. Quindi il bacio può essere grandioso, ma non ti pagherà l'affitto della tua umile casa, del tuo umile appartamento, or help you, o non ti aiuterà at the automat, alla tavola calda. Automat ti traduce in italiano appunto il termine tavola calda. Quindi un bacio grandioso non è sufficiente per quelle che sono le esigenze di sopravvivenza del quotidiano, come l'avere un tetto sulla testa o procacciarsi da mangiare. Men grow cold as girls grow old. Gli uomini si raffreddano nel mentre che le donne invecchiano, diventano più grandi di età, and we all lose our charms in the end. E noi tutti perdiamo i nostri incanti, cioè il nostro fascino, alla fine. But square cut or pier shape, ma tagliati in forma quadrata o con l'aspetto a pera, riferito ai diamanti, quindi che abbiano un taglio quadrato o una forma a pera, these rocks, queste pietre, don't lose their shape, non perdono il loro aspetto, la loro forma estetica. Diamonds are a girl's best friend. I diamanti sono i migliori amici delle ragazze. E qui comincio a citare tutta una serie di famosi marchi che producono gioielli di alto livello come Tiffany, Cartier, quindi Cartier, Black Star Frost or Gorham, sono altri marchi di case di gioielli famose, Talk to me, Harry Winston, tell me all about it, Parlami, Harry Winston, dove Harry Winston è il nome del personaggio maschile del film che le vuole impalmare, tell me all about it, dimmi tutto, è un'espressione che traduce il nostro dimmi tutto. There may come a time when a loss needs a lawyer. Può arrivare, c'è la possibilità che arrivi un tempo in cui una fanciulla abbia bisogno di un avvocato, but diamonds are a girl's best friend, ma i diamanti sono i migliori amici di una ragazza. There may come a time when a hard-boiled employer thinks you're awful nice. Quindi possono arrivare dei tempi, può giungere un tempo in cui questa espressione hard-boiled employer è una forma di phrasal verb che intende un lavoro, cioè un datore di lavoro molto esigente. Può capitare che quindi abbia a che fare con un datore di lavoro molto esigente che pensi che sei tremendamente carina, cioè che ti nuoti per la tua avvenenza, but get that ice or else no dice. Allora, questa è un'espressione, un modo di dire, dove ice è una metafora di diamante. Quindi, anche se il datore di lavoro ti nuota perché sei carina e quindi tu puoi far cadere in questo senso, prendi il ghiaccio, cioè fatti dare prima i diamanti or else no dice o nulla da fare oppure non c'è trippa per gatti e questo è il significato di questa espressione, di questo modo di dire. He is your guy when stocks are high but beware when they start to descend. Lui sarà il tuo ragazzo, il tuo uomo quando le tue quotazioni, le tue azioni sono alte ma fai attenzione quando queste cominciano a scendere, a calare. It's then that those lussies go back to their spouses. E allora, in quel momento quando le tue azioni cominciano a calare, che quei pidocchi o anche potremmo tradurlo con no, lussies sono i pidocchi, non vermi, pidocchi, tornano indietro dalle loro consorti, i diamanti sono i migliori amici delle ragazze. Ho sentito dire, ho sentito parlare di relazioni che sono strettamente platoniche, ma i diamanti sono i migliori amici delle ragazze. And I think affairs that you must keep liasonic are better pets if little pets get big baguettes. E io penso che invece le relazioni in cui tu devi mantenere i contatti, cioè quelle che non sono platoniche ma che hanno qualcosa di carnale, siano delle scommesse migliori, soprattutto sottointeso se gli animaletti riferito agli uomini hanno delle grosse baguette. Su questo verso non mi soffermo perché penso che sia più che esplicito. Time rolls on and youth is gone and you can't straighten up when you bend il tempo rotola via quindi il tempo se ne va e anche la gioventù è andata e non riesci you can't non sei più in grado di straighten up di drizzarti di mettiti dritto quando sei piegato quindi con l'andare dell'età sovventrano i primi acciacchi come quello di non riuscire più a stare con la schiena dritta dopo che ti sei piegato perché hai dolore no? But stiff back or stiff knees you stand straight at stiff knees quindi ma che tu abbia il dietro cioè il dorso la schiena rigida o le ginocchia rigide sai bello dritto quando ti trovi davanti a Tiffany a un negozio di Tiffany ti passano tutti gli acciacchi diamonds quindi va in chiusura il brano i diamanti lo ripete due volte I don't mean rhinestones non intendo quindi non sto parlando di rhinestones i rhinestones sono gli strass quindi non sto parlando di pietre di nessun valore pot diamonds ma i diamanti our girls best sono i migliori amici prima di passare alla conclusione del video diamo un'occhiata come sempre al vocabulary quindi vediamo quali termini possiamo memorizzare a partire dal testo della canzone il primo di questi è il verbo to delight che può significare sia deliziare che dilettarsi poi abbiamo l'aggettivo grand che traduce il nostro grandioso rental che può indicare il noleggio di un bene o anche il canone di affitto di un appartamento humble aggettivo che significa umile modesto automate che traduce invece il termine tavola calda poi abbiamo il termine loss che traduce il nostro italiano fanciulla affair è una relazione sentimentale youth che traduce il termine gioventù e infine rhinestones che sono gli strass ed anche per quest'oggi abbiamo concluso quindi se ancora non l'hai fatto comunque ti invito a iscriverti al canale ricordandoti di cliccare anche sul simbolo della campanella per essere aggiornato sulle prossime uscite video e se vuoi aiutarmi a far crescere il canale lasciami un pollice all'insù al di sotto del video stesso ti do appuntamento giovedì prossimo dalle 14 con il nuovo listening translate mentre ci ritroviamo con la lezione di grammatica inglese al martedì sempre a partire dalle 14 have a nice day bye